Pieni e duro ragazzi, sono Diablo, TocciTube Sono qui tornato con un video da anni praticamente Perché volevo vedere, ero curioso di vedere quanti siate rimasti In caso che comunque c'è anche il nuovo acquisto che è la GoPro Nova Ho detto proviamola, è figata Si vede in real time Bellissimo, cose spaventose che ai tempi di quando facevo io il video me le potevo anche sognare Anche perché insomma sono stato due anni nell'esercito Poi ora ho iniziato un'altra carriera che è quella in polizia Sono i cappelli alpini Qui c'è il basco marato dei Parà E ora però c'è questo Ho fatto sto video più che altro per vedere chi è rimasto Cioè chi è che è ancora iscritto al mio canale Dato che comunque c'ho 2000 iscritti Attivo penso che ci sarà rimasto Boh Quel cane là Quel gatto lì Cioè Nessuno Si guarda anche come fare video Nel senso Che giochi trattare Ah si guarda Pinedoodo ragazzi Ciao Ciao Grazie a tutti.